L'esposizione diretta ai raggi solari può essere molto pericolosa se non sei adeguatamente coperto o protetto con creme solari. Esistono tanti tipi di creme solari diverse. Scegli sempre quelle che non contengono microplastiche. Leggi bene l'etichetta. Se c'è la parola nylon o polietilene vai su un altro prodotto. Scegli le creme, sempre biodegradabili ed ecocompatibili e ricordati di non usare mai il sapone spiaggia. Se la tua spiaggia è attrezzata con una doccia fai la doccia con l'acqua corrente che è più che sufficiente per togliere la salsedine.